In occasione dell'attracco della nave Amerigo Vespucci a Tokyo, le attività culturali alla Conference Hall del Villaggio Italia sono state inaugurate da un evento di collaborazione artistica tra il maestro giapponese Nagashima Iroyuki e il ceramista siciliano originario di Motta d'Affermo Domenico Boja. Contestualmente è stata prevista una mostra di oggetti in ceramica realizzati in esclusiva per l'evento proprio dal maestro Boja. Questa esibizione, curata da il Made in Sicily in collaborazione con l'ente nazionale italiano per il turismo, si inserisce nel contesto del turismo delle radici, un progetto nato per celebrare e promuovere l'importanza delle radici culturali italiane nel mondo. L'evento ruota attorno al libro delle radici, un'opera che raccoglie firme e testimonianze artistiche di italiani e italo-discendenti, dimostrando come le radici culturali siano un ponte che unisce l'Italia al resto del mondo. La manifestazione ha voluto dare dimostrazione come culture distanti possono collaborare e produrre insieme. Cosa straordinaria praticamente la tecnica che lui ha utilizzato attraverso l'utilizzo di questi inchiostri colorati con la presenza dell'oro e io praticamente li ho fusi, mi sono fuso con questo attraverso praticamente la tecnica della ceramica artistica. Una performance che in un certo qual modo porta due culture, due realtà ad incontrarsi e da qui far venire fuori un lavoro straordinario. Come detto, le attività sono state organizzate dal Made in Sicily, già presente in occasione della prima edizione del Villaggio Italia. Una collaborazione che rafforza sempre di più la presenza della Sicilia negli scenari internazionali di rilievo. La presenza della ceramica al Villaggio Italia a Tokyo è inoltre una grande opportunità per dare visibilità e valore ad un comparto così importante per la Sicilia. Il Villaggio Italia è un'expo itinerante che accompagna il tour mondiale dell'Americo Vespucci. Dopo Los Angeles e Tokyo sarà la volta di Australia e Singapore. Un percorso iniziato lo scorso luglio a Los Angeles e che oggi ci vede protagonisti a Tokyo, al Villaggio Italia, grazie a questa bellezza che è la nave Americo Vespucci e al Ministero della Difesa e all'ENIT che ci hanno permesso in collaborazione di essere presenti con una grande opera. Un grande momento di condivisione fra Italia e Giappone, fra Giappone e Sicilia, con due grandi maestri, il maestro Nagashima Hiroyuki da Tokyo e il maestro Domenico Boscia dalla Sicilia. Insieme hanno realizzato un'opera direttamente davanti a un pubblico che ha risposto in maniera emozionatissima alla fine, proprio perché è passata l'idea che questi due popoli possono e vogliono collaborare.